Siamo con i ragazzi dell'Alba Calcio, annata 2006, voi costituirete l'ossatura della squadra guidata da Mr. Lonano che parteciperà al campionato Juniors e anche con la prima squadra insieme a Mr. Biasi per la Serie D. Quali sono le prime impressioni dopo questo primo allenamento con la squadra? Buone, a livello individuale della squadra siamo un gruppo unito con voglia, con determinazione e penso che potremo fare un buon campionato. Avete già avuto modo di confrontarvi con Mr. Lonano e Mr. Biasi? Le vostre prime impressioni sui allenatori? Tutte e due abbiamo avuto modo di confrontarci, sia Lonano e con Biasi e posso dire che tutte e due mi sono sembrati molto contenti e felici ma soprattutto con tanta voglia di fare molto e questa cosa ci motiva tanto. Quali sono le vostre aspettative sia personali sia anche sportive? Personalmente si punta a fare bene anche perché quest'anno sarà difficile ma dobbiamo metterci tutto l'impegno possibile. Poi anche come squadra dobbiamo sempre lavorare tutto l'anno per raggiungere i risultati che vogliamo. Primo anno dell'Alba Calcio Serie D ma sono anche 13 anni che l'Alba non giocava nella categoria degli Juniors. Sentite l'orgoglio, la pressione anche di partecipare a questo campionato? Certo, è importante anche perché è una bella società, è importante fare bella figura anche in un campionato nuovo. Ecco, lasciamoci con una considerazione precampionato. Una considerazione precampionato? Spero appunto di fare un buon campionato sia a livello individuale che collettivo, sia a livello dell'alba. Allora. 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 Allora.